Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video sul canale. Oggi siamo qui per dare un breve giudizio, barra diciamo recensione tra virgolette, a due uscite, quella del 3 giugno da parte di Vegas Jones, il nuovo mixtape Jones, e poi darò anche una mia breve opinione sull'album Dircomirama No Stress, pubblicato il 7 luglio. Non ho fatto una reaction a questi due prodotti, ma intendo comunque dare una mia opinione generale. Mi sono segnato comunque alcune cose sui vari brani di questi due album, e quindi partiamo comunque dal mixtape di Vegas Jones, che è comunque quello che 3 e 2 mi è piaciuto di più. Ci ho trovato infatti diverse tracce interessanti, partiamo nell'ordine diciamo di tutte e 13 le tracce, e la prima traccia che troviamo è evoluzione, che sì diciamo non mi ha fatto impazzire in realtà evoluzione. Mi sono segnato una frase molto bella che mi ha colpito, ossia Sì, fa male rimangiarsi le parole, specie se è la verità, ma il mondo è finto che ti vuole. Però diciamo sì, tolto questo non è un brano che proprio lo metterei tra le migliori tracce del mixtape. Poi c'è Sura nel blocco, che invece l'ho sicuramente trovato più interessante, con un bel ritornello, poi mi ha fatto sorridere quando Vegas Jones ha detto non ho mai letto Leopardi, ci ha fatti così il quartiere di Frettati ma speciali. Comunque una canzone con un bel ritornello, sicuramente più interessante di evoluzione, secondo me, come pezzo. Poi dopo c'è Il mio Dog, che è tra i brani più sicuramente, probabilmente il brano più famoso, più pubblicizzato anche magari dell'album. E' un pezzo molto musicale, sicuramente con un bel ritmo, quindi ci sta, un pezzo molto tranquillo da ascoltare per chillarsi un poco, diciamo, anche per caricarsi, ecco. Poi bellissima la chiusura di Giorgio Vanni nel ritornello, diciamo, del brano finale. Giorgio Vanni, diciamo, per quanto riguarda che voleva imitare appunto la sigla di Dragon Ball, no? E quindi bella, diciamo, molto bella anche a livello visuale, perché poi nel video, c'è stato fatto un video apposito per Il mio Dog, proprio sul finale si vede proprio Vekas Jones con, diciamo, che è in stile proprio animato, alla Dragon Ball, diciamo. E poi c'è la voce di Giorgio Vanni che fa questa chiusura, la ciliegina sulla torta, diciamo, alla Dragon Ball, alla sigla di Dragon Ball, appunto in vista vocale. Poi proseguendo troviamo Fragile, che invece l'ho trovata un bel pezzo, con un bel testo profondo, tra i testi più profondi dell'album. E poi c'è la strofa di Gemi Tights che mi è piaciuta molto, come testo, diciamo, come flow, ma anche come attacco, proprio. Mi piace proprio come attacca sul brano Gemi Tights, che comunque sicuramente, rispetto a prima, in questi ultimi anni, diciamo, magari non ha fatto uscire prodotti di qualità incredibile, magari perché comunque Clissi, Davide era un bel album, sicuramente. Clissi c'è qualche pezzo bello, però magari potrebbe essere fatto di più. Però, diciamo, Gemi Tights è uno che, nei feet, sicuramente caccia spesso belle strofe. E in questo caso, sicuramente, ha cacciato una bella strofa con un bel attacco. Ci fa capire che quando si impegna è capace di fare ottima musica. Oltre che polemizzare per quanto riguarda morti, catastrofi, eccetera. Poi, appunto, proprio nella tracklist ufficiale, appare Ultimo Ballo, dove c'è una strofa di sgaccia, che io personalmente, un artista che non ascolto, lo ammetto, e la prima strofa, fa due strofe, diciamo, in questo pezzo. La prima è molto particolare, da punto di vista tecnico, anche come ritmo. La seconda, invece, è un poco più, tra i quarti, tradizionale, per come rappa. E comunque, poi c'è un ritornello, diciamo, orecchiabile di Vegas Jones, diciamo, il pezzo, sì, diciamo, nulla di che, secondo me, alla fine. Però, comunque, è carino. Proseguendo, tra c'è sebbiamo Cry Me A River. E questo è un altro dei pezzi che più mi è piaciuto nell'album, con una collaborazione, appunto, del 3, che sicuramente ha dato ottimi frutti. Il 3 che appare in due featuring per quanto riguarda questo album qui, questo mixtape, quindi, diciamo, per due brani. E Cry Me A River, diciamo, si apre proprio con queste no, sulle no, diciamo, sulla base di Kids, degli MGMT e MGMT. Il brano è bello, ragazzi, secondo me. A partire dal ritornello, che è molto orecchiabile, molto bello. Anche la strofa, comunque, del 3, secondo me, spacca. Poi il 3 è uno che, comunque, sa scrivere bene. Io, proprio in questo periodo qui, sto approfondendo anche pezzi precedenti, diciamo, del 3, magari anche di 5-6 anni fa. Ho scoperto nuove tracce, tipo, diverso da loro, tipo, vivere da morto. Buchi al petto, che non ne avevo ascoltato. Lo sto un po' approfondendo. Pian piano è uno che, comunque, scrive bene, ha delle cose da dire e manda spesso anche messaggi profondi. Quindi questa traccia, sicuramente, mi è piaciuta. Personalmente, è tra le migliori dell'album, per quanto mi riguarda. Proseguendo, traccia numero 7. Non ho appuntato molto, perché, semplicemente, l'ho trovato una traccia abbastanza anonima. Non mi ha lasciato granchino, non mi ricordo nemmeno. In realtà, nonostante i mixtape, l'abbia ascoltato interamente almeno due volte, con diverse tracce, ovviamente, che lo ascoltate anche in separata sede, diciamo, più volte. Perché, comunque, mi sono piaciute, quindi l'ho riascoltato con piacere. Però il mixtape, in generale, di seguito, l'ho ascoltato almeno due volte. E questa traccia l'ho, diciamo, l'ho abbastanza dimenticata, per cui, magari, l'ho, sicuramente, reputata un po' anonima. L'ho sentita un po' così, anonima. E, comunque, niente di che. Proseguendo, abbiamo una chance, con una collaborazione con Quentin Quaranta e Envy Killa. E l'ho tolto un bel pezzo nel complesso, con una strofa di Quentin Quaranta, che mi è piaciuta. E poi c'è la strofa di Envy Killa. Anche lui non mi è dispiaciuto, però mi è piaciuto un po' di meno di Quentin Quaranta. Comunque, due strofe abbastanza brevi, però Quentin Quaranta l'ho preferito, personalmente. Comunque, il brano è carino, ci sta. Poi c'è un altro brano, da solo, di cui abbiamo, appunto, anche qui vedrete il videoclip. Una collaborazione con Nitro e con Knight. Knight è un artista che io non conosco moltissimo, però qualche brano lo ascolto, cioè, lo conosco. E' un artista che, sicuramente, a livello tecnico è molto, molto bravo. Cioè, quando lui vuole, se tecnicamente è molto bravo. Infatti, in questo pezzo l'ho anche preferito, in realtà, Nitro. Anche se Nitro, anche lui, da punto di vista tecnico, ha performato bene, però ha uno stile un po' particolare, ha trovato un po' particolare, non mi ha fatto impazzire, nonostante riconosca il fatto che ha rappato bene. Cioè, tecnicamente, la strofa è fatta bene, però ho preferito Knight. Mi sono appuntato anche una sua frase, quello che soffro mi fa forte o pazzo, se non mi ammazzo è buono. Quindi, è una frase che, un po' come mi ha colpito, me la son segnata. Proseguendo, traccia numero 10. È una collaborazione di Vegas Jones con Mostro, anche questo è un brano che mi è piaciuto, con il test di Mostro. La strofa dimostra che, da punto di vista del test, del significato, mi è piaciuta. Mostro un altro che, quando vuole, sa scrivere bene. Infatti l'ho dimostrato anche nell'ultimo album, The Hill, volume 3, che comunque sa scrivere bene. Anche lì ha cacciato dei pepezi, appunto, da vista dei testi. Con esempio, delusioni, ma in realtà diverse, ce ne sono state in quell'album. Gli aquiloni, bottiglie rotte, che poi con Amy Schill, eppure con un altro, mi sembra che era Jack Lafuria. No, con Jack Lafuria c'era pure quell'altro pezzo. Vabbè, ora non ricordo. Comunque, andate ad ascoltare quell'album, perché ci sono delle belle tracce, secondo me. Al di là di questo, il pezzo mi è piaciuto. In genere, comunque a me, è un'artista che piace, sicuramente. Quindi andiamo avanti alla traccia numero 11, che è un'altra collaborazione con il 3, Curriculum. È una traccia che, comunque nel complesso, non mi ha fatto proprio impazzire. L'ho trovata carina, diciamo, l'ho trovata meglio, più affascinante, l'altra collaborazione con il 3, Cremia River. Questa qui, comunque, è una strofa in cui comunque il 3 ha cacciato una bella strofa, secondo me, ma il pezzo, diciamo, non è niente che nel complesso, secondo me. Secondo me, poi è chiaro, sono anche gusti. Poi c'è un penultimo pezzo, si chiama Piccola Stelle, che invece mi è piaciuto. Molto bello anche il ritornello e il pre-ritornello. Poi l'ultimissimo brano, Chianti Classico, che è un brano che va ascoltato con molta attenzione per capire bene, per, diciamo, riuscire a seguire bene il testo, perché, diciamo, non è particolarmente musicale, incisivo, ecco. È semplicemente un, diciamo, bar che vanno ascoltate con attenzione, in cui Becas Jones integra con molti inglesismi, proprio usa molti termini inglesi, quindi c'è questa cosa comunque di fare le rime con assonanze, insomma, anche con inglesismi, con termini inglesi, mischiati comunque a termini italiani, con cui terminano le barre. E comunque, il mixtape finisce qui, pubblicato, ve lo ripeto, il 23 giugno. Mi andava di dire qualcosa, perché questo qui è un prodotto che, secondo me, è un buon prodotto, cioè, comunque a me ha colpito, perché ci sono delle tracce interessanti, se devo dire la mia, su tutte, diciamo, ho preferito, solo nel blocco, ho preferito sicuramente Cry Mia River, il mio dog, fragile, e piccola stella, diciamo, magari queste 5 tracce, su tutte, se devo scegliere, ma ce ne, diciamo, già 5 tracce, su 13, belle, che proprio ti sono piaciute, già è buono, ma in realtà ce ne sono anche altre, abbastanza carine, in questo mixtape, ci sono pochi pezzi, che veramente, dici, questo era evitabile, secondo me, cioè, comunque nel complesso, è un buon prodotto, infatti do almeno un 8, anche 8 più come prodotto, perché l'ho trovato, un bel prodotto, lui comunque è un artista, che magari passa un po' in sordina, però, meno famoso, meno seguito, anche a livello di follower, magari di altri, però comunque, è un artista che, in realtà non troppa tantissimo, che è un quantitativo, però, quando troppa, comunque, li caccia i bei prodotti, quindi, quindi si sta, a seguirlo, quando esce qualcosa, di nuovo, da parte sua, ora, giusto due considerazioni, anche sull'album, di Irkomi e Rama, per par condicio, analizziamo un poco, brevemente, un po' tutte le tracce, dell'album, che sono 11, non molte, per essere un album, e, uscito il 7 luglio, come vi ho detto, c'è un videoclip ufficiale, che è il brano sexy, poi ci sono tutti altri brani, visual video, e poi c'è un brano lyric video, che sarebbe figlio unico, collaborazione con Ernia e Kid Yugi, a partire comunque dall'inizio, per quanto riguarda la tracklist, dell'album vera e propria, abbiamo Hollywood, che comunque già era uscito, si conosceva già questo brano, comunque un bel brano, ci sta, orecchiabile, carino, musicale, con un bel ritornello di rama, e comunque due strofe, belle, comunque carine, di coming, ci sta, il brano ci sta, molto discografico, ecco. Poi troviamo sexy, una canzone diciamo, molto spinta, molto erotica, sicuramente, anche dal punto di vista visuale, del video, vero e proprio, diciamo, il brano nel complesso, onestamente, non mi ha fatto impazzire, non è il tipo di, di brano che apprezzo, perché capisco che a Minno, si distingue molto, dal resto della tracklist, dalla maggior parte del brano, è un po', una voce fuori dal coro, ecco, come, come tipo di brano, quindi sicuramente, peculiare, però non mi ha fatto impazzire, la strofa di Guè, un po' l'ha salvato, secondo me, nel senso che, comunque, la strofa di Guè è buona, è una buona strofa, però nel complesso, il video, in realtà, ma anche un po', il brano, il video, ma non un po' cringiato, anche un po', se ti posso essere sincero, mi ha ricordato una, tipo una canzone di Miss Kate, adoro, quando dice quella cosa sexy, sexy, mi ha ricordato quando dice adoro, adoro, cioè, comunque, sì, non mi è piaciuto molto, vi dico proprio la verità, sexy non mi è piaciuto molto, poi c'è il terzo brano, quando piove, mi piace molto come il comi va, sulle alte, diciamo, quando passa appunto sulle alte, va sui acuti, mi piace proprio a livello di timbro, a livello di vocalità, e infatti, sul finire la prima strofa, mi piace quando dice, io vado a Nanzi Areto, e va appunto sui acuti, sul fine della prima strofa, sul finale della prima strofa, poi è bello il secondo per il ritornello di Rama, bello anche il ritornello di Rama, con una bella voce, anche perché Rama, anche dal punto di vista vocale, sicuramente ha una bella voce, sono due artisti dotati di una buona vocalità, come Rama, poi diciamo andando molto velocemente, perché poi spesso, ho segnato sempre le stesse cose, nel senso che la maggior parte dei ritornelli, per i tornelli sono belli, perché comunque dal punto di vista vocale, due artisti sono dotati, soprattutto la voce di Rama, anche se comunque anche il commi, sulle altre, sui acuti è molto bravo, quindi comunque ho segnato, che sulla pelle è un bel pezzo, con una buona strofa di Rama, una buona strofa di Irkomi, poi c'è Gravità, che è un bel pezzo, che mi ha colpito anche a livello di testo, con due buone strofe, anche qui, prima quella di Irkomi, in questo caso, e poi quella di Rama, poi c'è Petrolo, con anche qui un bel ritornello, da parte di Rama, e una strofa di Irkomi, molto bella, a livello ritmico, con una frase, con cui si è chiusa, proprio la strofa di Irkomi, che ho segnato, perché mi ha colpito, ossia, hai mai sognato qualcosa, che sia più grande di te, e lui ha chiuso proprio così, la strofa, ecco, ad esempio, un'altra bugia, ho segnato, un'enfermere lote, è un pezzo che si vede, che mi è piaciuto un po' di meno, degli altri, con comunque, un bel per il ritornello di Rama, poi c'è Ullami addosso, che è un pezzo anche qui, molto musicale, un bel ritornello, un bel per il ritornello, c'è Presipito, un altro bel pezzo, anche a livello di testo, con una bella prima strofa, e un bel ritornello, quindi comunque, nel complesso, i brani mi sono piaciuti, soprattutto dal punto di vista, del ritornello, i tornelli molto belli, per i ritornelli ci stanno, magari le stoffe nel complesso, a livello di testo, mi sono piaciuto un po' di meno, nel senso, non lo so, alcune non mi sono piaciute molto, a livello di testo, magari più a livello ritmico, musicale, vocale, però a livello di testo, magari non particolarmente, anche se alcune sono belle, infatti, mi hanno segnato appunto, come vi ho detto, che sulla pelle, Presipito, sono brani che, mi hanno colpito anche a livello di testo, ma la maggior parte, in realtà, non mi hanno colpito molto, a livello di testo, se posso essere sincero, proprio di significato, delle barre di profondità, del testo, infatti, poi, dopo Urla Mendozo, c'è la penultima traccia, la desima, troviamo Presipito, e per ultimo, abbiamo Figlio Unico, con una collaborazione, con Ernia e Kid Yugi, con un Ernia, che apre, diciamo, le danze, con un bel timbro, con anche, i testi, di testo, termini utilizzati, molto, non diciamo, non diciamo, un po' sofisticati, però sicuramente, anche abbastanza ricercati, c'è scritta molto bene, la strofa, a livello anche di termini, utilizzati, d'altronde, diciamo, Ernia è sicuramente, uno di quelli che scrive meglio, nella scena rap italiana, senza un problema di dubbio, a livello di scrittura, a solito livello di scrittura, molto alto di Ernia, poi, diciamo, c'è la strofa di Rama, che è una strofa, comunque, autocerebrativa, con un Rama bello incazzato, nel cantare, diciamo così, nel rappare, poi c'è la strofa di Ircomi, che parla, diciamo, del rap in generale, ma anche, di riscatto personale, perché poi, ad un certo punto, ora sto leggendo, proprio la fine della strofa di Ircomi, ricordo il primo tour, il primo amore, il primo tutto, 21 anni, avevo di 21 disturbi, mangiavo dove dormivo, diavo cosa pensavo, mentre fissavo il soffitto, quindi, diciamo, anche il riscatto personale, sì, vabbè, poi comunque sì, c'è un breve interludio di Ircomi, due barre, ritornello di Rama, Ircomi e Kid Yugi, e poi abbiamo una strofa, quattro, la strofa di Kid Yugi, breve ma apprezzabile, Kid Yugi comunque è l'artista del momento, sicuramente, che è anche lui un modo di rappare, molto particolare, a livello di voce, pare quasi che si sforzi a fare, non lo so, sembra che si sforzi, ha una voce molto particolare, molto, non lo so, molto profonda, cavernicola, non lo so, molto particolare, e anche lui, diciamo, mi ricorda un po' Pachi, perché entrambi, diciamo, un modo un po' particolare di rappare, ecco, diciamo così, cioè proprio a livello di voce, non lo so, a livello di timbro, di voce, comunque sicuramente è forte, Kid Yugi è uno degli artisti, sicuramente l'artista del momento, e, allora, considerazioni sparse, diciamo, come voto, un sette e mezzo, va dai, un sette e mezzo, o un sette e più, un sette e mezzo, anche se a Vegas ho dato, allora a Vegas più di, se qui do sette e mezzo, a Vegas un otto più otto e mezzo, va, diciamo così, comunque, considerazioni sparse, diciamo che il problema dell'album, secondo me ovviamente, questi sono tutti i miei pareri, è che comunque l'album, nel complesso è anche un buon prodotto, però un po' ripetitivo, nel senso che, alla fine io, ho ascoltato questo album, anche qui due volte, almeno interamente, l'ho pompato di meno, come pezzi singoli, rispetto all'altro, e che mi sono piaciuti anche di meno, in generale, rispetto agli altri, cioè a quelli dell'altro prodotto, cioè dei mixtape di Vegas Jones, però, il fatto è che, non riesco a, non riesco a bene ricordare, ad esempio, in base al titolo, che pezzo è, nel senso che, molti pezzi, assomigliano tra di loro, a livello di, non so di vocalità, hanno qualcosa in comune, cioè io, anche dopo due ascolti, non, se tu mi dici, metti, petrolio, metti gravità, metti sulla pelle, metti quando, io non mi ricordo nulla, cioè nulla di come peculiarità del brano, tranne quelli un po' più particolari, tipo ad esempio, vabbè, Hollywood, perché comunque già l'avevamo ascoltato, già era uscito, poi Sexy, che ovviamente è molto particolare, rispetto alle altre tracce, e poi c'è Figlio Unico, ovviamente anche qui, particolare, però gli altri, più o meno, diciamo, non voglio dire che, sono proprio uguali, però un poco, un poco poco si assomigliano, anche le loro vocale, magari di tornelli, non lo so, non ho trovato molto diversi, invece nel mixtape di Vegas Jones, di Vegas Jones, c'era sicuramente più varietà, secondo me anche di Fit, non lo so, ad esempio, Surin'ElBlock, è una traccia molto diversa, anche da, da Cremia River, dal Mio Dog, da Fragile, dalle altre, c'è anche Chianti Classico, è una traccia molto diversa, dal Mio Dog, non lo so, ho trovato più varietà, e invece qui, lo so, un poco, magari ripetitivo, non lo so, nelle varie tracce, però questo è un mio parere, ecco, nel senso che, ad esempio, io qui mi ho appuntato, che molte delle canzoni, dopo due ascolti, ancora le confondo tra di loro, ma diverse, c'è proprio molte tra di loro, le confondo, non le distingo facilmente dal titolo, cioè io leggo il titolo, non mi viene in mente nulla di quella canzone, quindi questo magari è un po' un problema, però comunque ci sono diverse interessanti, anche in questo, in questo album, assolutamente, come ad esempio, come ad esempio, magari dicendo un po' quelle tracce mie, che mi sono piaciute di più, sicuramente c'è Hollywood, sexy ve l'ho detto, comunque non mi è piaciuta, poi c'è comunque quando piove, sicuramente un bel pezzo, gravità, petrolio, lo stesso figlio unico nel complesso, diciamo, più o meno ci sta, anche se non è comunque tra le mie tracce, proprio preferite dell'album, però comunque ci sta, e quindi questo è il mio parere sull'album, tra i due, comunque quello che ho preferito, sicuramente il mixtape di Vegas Jones, e fatemi sapere voi invece cosa pensate di questi due prodotti, dell'album Oss, del mixtape Jones di Vegas Jones, like, commento, iscrizione al canale, condivisione del video con tutti i vostri amici amanti della musica e del rap, in particolare del rap italiano, e grazie per l'attenzione per chi comunque è arrivato fino a questo punto, e ragazzi ci becchiamo presto per nuovi contenuti sul canale, a breve penso una bella reaction a Nico Bandetta, l'album di Nico Bandetta è comunque non ascoltato perché voglio faccio una reaction, anche se magari sono un po' che in ritardo, quello sicuramente, e comunque ragazzi, sto caldo non nemmeno in voglia comunque a fare niente, in realtà perché proprio si schiatta di caldo, una cosa incredibile, comunque ragazzi ci becchiamo presto per nuovi contenuti sul canale, ciao a tutti da Simpilo26, a presto! a presto!